Sì, effettivamente, spesso si ha la sensazione che si vanti la possibilità, in genere quando si è all'opposizione, di poter decidere perché in realtà si sa che gli strumenti con cui normalmente oggi si pensa di poter decidere sono vistosamente spuntati e come ha messo in evidenza mi sembra assai felicemente Umberto Curi, forse non si sa avere un'ipotesi che non sia retorica sull'emigrazione perché in realtà non vi sono ipotesi che riguardino la nostra realtà complessiva, forse non si sa rispondere a dove abbralloggiarli, come farli lavorare, perché a queste domande non si sa sempre più rispondere per ciò che riguarda gli italiani, ma comunque passiamo la parola ad Annalisa Fissi. Buongiorno a tutte, sono felice di essere qua, ringrazio gli organizzatori e proverò a ragionare su soggetti e scenari parlando dei figli dell'immigrazione e ragionando sullo scenario delle diseguaglianze crescenti a livello globale ed europeo italiano. Per collocarmi anche rispetto alla chiave interpretativa delle migrazioni internazionali, cito soltanto uno degli autori che penso possa essere utile a questa riflessione, è Salvatore Palida dell'Università di Genova che ha scritto questo libro mobilità umane, innanzitutto per mostrare, come hanno fatto anche altri colleghi qui oggi, che la storia dell'umanità è una storia di migrazione, quindi una volta per tutte uscire da questo deliro emergenziale. E poi anche per riflettere sull'insopprimibile atto politico del migrare come un'aspirazione all'emancipazione sociale, cioè come hanno fatto anche altri cerchiamo appunto di avere una prospettiva un po' più ampia e guardare appunto anche alla storia per esempio delle migrazioni italiane, anche con questo sguardo critico di vedere nel momento in cui per tutta una serie di cittadini la voice non veniva contemplata, non veniva considerata possibile l'exit, la migrazione, diventava l'alternativa più valida per cercare appunto di emanciparsi socialmente, politicamente. E questo naturalmente riguarda anche le nostre migrazioni interne, abbiamo già citato l'importante storia della questione meridionale, quindi dell'immigrazione dal sud al nord dell'Italia. Quindi con questo sguardo e con anche la consapevolezza che questa aspirazione all'emancipazione sociale non si ferma con chi migra, ma i figli di quelle migrazioni, come hanno anche detto altri, ancora più sulla base dei sacrifici fatti dai propri genitori aspirano doppiamente a questa emancipazione e ci troviamo appunto in un contesto in cui a differenza per esempio dei figli dell'immigrazione che nel dopoguerra erano emigrati appunto i genitori in Francia, in Gran Bretagna, si trovavano nei 30 gloriosi con un modello sociale europeo che riusciva a garantire un certo livello di cittadinanza sociale. Invece ora ci ritroviamo appunto nell'Europa della cosiddetta austerità, con un modello neoliberista che viene sempre più visto come l'unico possibile, che ha delle conseguenze per tutti i giovani innanzitutto, sappiamo la precarizzazione, la disoccupazione crescente, ma ha delle conseguenze anche e ancora di più per i figli dell'immigrazione, perché pensiamo, vi cito anche qua un libro di colleghi dell'Università di Trento che ritengo utile per questa riflessione, si chiama Generazioni disuguali, i giovani di oggi e i giovani di ieri a confronto e ci fa vedere come la mobilità sociale sia oggi bloccata e come i giovani siano sempre più dipendenti dalle famiglie. Questo cosa significa? Significa una trasmissione delle diseguaglianze intergenerazionali e pensate cosa significa in Italia, in un modello di welfare, che come dicono appunto i nostri colleghi che si occupano di politiche sociali, è un modello familista, conservativo familista, quindi vuol dire che questa cresciuta dipendenza dalle famiglie nel nostro paese pesa ancora di più rispetto a paesi con modelli socialdemocratici in cui questo tipo di trasmissione delle diseguaglianze è stato storicamente meno forte e lo è ancora oggi. Quindi io vorrei collocare questa riflessione all'interno di questa riflessione più ampia perché penso, come un altro studioso che reputo assolutamente importante, Abdelmalek Sayyad, Franco Algerino, che le migrazioni abbiano questa funzione specchio, ci aiutino a riflettere appunto sulla società, come anche ha detto bene il collega che mi ha preceduto, abbiano questa importante funzione di riflettere intanto come appunto Sayyad, sul pensiero di Stato, cioè sullo Stato che pensa a se stesso mentre per esempio come citava anche della Zoanna, fa una legge sulla cittadinanza e tra poco ne parleremo. E che idea di cittadinanza anche non solo in termini legalisti, ma di cittadinanza sociale è in mente. E nelle pratiche poi, nelle conseguenze materiali di questo. E poi anche proprio per cercare di ragionare insieme sull'assetto politico della società in cui viviamo. E mi piacerebbe appunto farlo a partire da una riflessione degli ultimi dieci anni, perché appunto mi sono occupata di questi temi dagli inizi del 2000 e in particolare appunto sui figli dell'immigrazione, allora vorrei almeno ragionare su questi ultimi dieci anni e partendo appunto dalla questione della cittadinanza. Qua a Padova tra l'altro c'è stata un'importante mobilitazione della società civile proprio in supporto di una riforma e la Campania Italia solo anche io ha avuto appunto un terreno fertile in questa città. E volevo ricordare appunto questa questione che adesso sembra vicina a una svolta, come è sembrato anche in altri momenti, ma ora almeno 13 ottobre c'è stato il primo passaggio in un ramo del Parlamento. E quindi riflettere con voi su a che punto siamo e dove andiamo. Allora intanto mi tocca per forza citare questa rete di giovani figli dell'immigrazione che appunto ha preso questa etichetta delle seconde generazioni pur in maniera critica ribadendo che non si tratta di migranti che ereditano una condizione da loro genitori ma di italiani col permesso di soggiorno e che lo sono appunto di fatto e lo sono anche per vocazione e intanto appunto questa foto vedete c'è il sito perché un'altra caratteristica che volevo appunto evidenziare qui con voi è che questo processo anche di rivendicazione dei diritti rispetto a quello che è avvenuto con i figli dell'immigrazione in altri paesi è stato più accelerato anche perché a disposizione di questi giovani diversamente da com'era per quegli altri che ho citato in Francia, in Inghilterra, nel dopoguerra ci sono appunto i social media e questo ha comunque permesso loro di facilitare appunto anche pratiche di autocoscienza collettiva online e anche facilitare le organizzazioni di appunto attività di lobby dal basso come la chiamano loro per cambiare questa legge e naturalmente evocare l'attivismo online dei giovani non ci deve far pensare che ci sia questo appunto scollamento innanzitutto tra l'attività online e quella offline e poi tra le modalità di politica non tradizionale con quelle tradizionali perché come vedete anche con quest'altra pagina che hanno di Facebook c'è un'attenzione per quello che avviene nel Parlamento forte e lo è stata sempre di più negli ultimi anni e ovviamente negli ultimi mesi e quindi c'è anche questo tipo di attivismo che costituisce una novità possibile proprio per gli strumenti di cui posseggono. Detto questo nessun determinismo tecnologico non è la tecnologia che le ha resi più attivi, naturalmente sono sempre gli attori sociali che della tecnologia ne fanno alcune cose più democratiche o altre meno come vedremo tra un pochino e questo per raccontare voi direte allora 2005 si sono messi insieme per questa riforma ora ci siamo quasi ce l'hanno fatta. Come vedremo parlando appunto su una riflessione sulla società italiana e le disuguaglianze, le discriminazioni e la cittadinanza effettiva vedremo che si è ancora insomma in mezzo al guado. E questo non solo perché come l'Italia sono anch'io e altri, la stessa RCTW e i giuristi che possono farlo anche con più competenze delle mie hanno mostrato quali sono i limiti dell'attuale legge che si spera per essere approvata, ne dico solo uno, ancora una volta legare al reddito la possibilità di accedere a questa richiesta di cittadinanza. Se la prendiamo ancora una volta con Sayad cosa stiamo immaginando? Stiamo immaginando un tipo di cittadinanza in cui il classismo in termini molto stringati si conta ancora, cioè in cui il possedere o meno risorse in questo caso proprio economiche ha degli effetti sul venire o meno riconosciuti cittadini e quindi il diritto ad avere diritti. Insomma da lì discendono tanti altri diritti. E su questo appunto richiamare brevemente che come altri colleghi hanno ben evidenziato non si tratta appunto da una parte, pensiamo alla generazione precedente e a quello che sta avvenendo ora per chi migra ora, di fermare il flusso. come si hanno già detto è storicamente insostenibile e quello che avviene con questo tipo di regime valida ci direbbe proibizionista migratorio è di stratificare i diritti anche a livello globale e a livello locale. E come richiamava appunto anche il professor Curi sulla legge Bossi Fini significa anche quello, cioè produrre irregolarità, cioè per legge, diseguaglianze per legge quindi stratificare è qualcosa appunto che abbiamo bisogno di concepirlo come una produzione anche da parte dello Stato e come una, diciamo, c'è chi come i colleghi di Venezia basso per occo rispetto alla legge Bossi Fini parlano proprio in maniera esplicita di razzismo di Stato, proprio mettendo a confronto vari modelli e vedendo gli effetti materiali che ha questo tipo di legislazione, insomma non hanno mezzi termini per definirlo in questo modo. e quello che avviene appunto è che rispetto, dicevo, al quadro di prima in cui c'è un quadro crescente di diseguaglianze che vengono appunto in maniera più pesante trasmesse da una rigenerazione all'altra e che appunto per i giovani di oggi, dicevamo, meno tutele, più precarietà e ancora di più, se pensiamo anche in chiave intersezionale ancora di più appunto questo tipo di svantaggi lo avranno quelli che non riescono a cedere a questo diritto di vedersi riconosciuti cittadini anche dal punto di vista legale. e quindi questa è una riflessione sulle conseguenze di limitare tutto quello che è stato detto anche della zona con diversi negoziazioni che sono state fatte conflittuali in Parlamento cioè con la consapevolezza che più restrizioni si mettono più si sta stratificando dentro appunto questa nuova generazione. ma io adesso volevo farvi riflettere sul fatto che non è che una volta, allora, che idealmente tutta questo milione e pasta di giovani figli dell'immigrazione prendono la cittadinanza in sciala, direbbe qualcuno. Però cosa succede? Succede che non è finita qui perché appunto evocando brevemente diciamo anche il mio posizionamento rispetto alla questione culturale che è stata richiamata da diversi colleghi. Allora, come sociologa mi ritrovo a riflessione come quella di Jan Swindler per esempio che ci dice di pensare alla cultura come una cassetta degli attrezzi. Anche allievi ha parlato di un repertorio jazz, abbiamo dei cavonavaci e pensate forse anche in questi termini per quanto riguarda le religioni c'è la Bibbia e il Corano e gli attori sociali ne fanno cose molto diverse partendo dalle stesse fonti. Ecco, ancora di più, laddove non si tratti di un testo di riferimento sacro ma ancora appunto con un patrimonio culturale che è sempre ancora più in trasformazione, non siamo dei drogati culturali che affichiamo e non lo sono neanche i migranti e i loro figli delle tradizioni e le riperpetuono ma abbiamo appunto la capacità di creare dei confini simbolici, di attraversarli e tutto ciò viene in certi contesti sociali che come sociologi siamo invitati a studiare e a capire le conseguenze appunto anche di questi contesti sulla facilità o meno di attraversarli, questi confini simbolici che ci diamo noi stessi. E quindi quello che volevo richiamare sono due riflessioni sempre frutto di questi studi sui figli dell'immigrazione in Europa e in Italia. Uno che come è anche stato richiamato, la corte nata dopo gli anni 80 è familiarizzata alla diversità culturale e anche religiosa in un modo che è decisamente diverso rispetto alle corte precedenti. Quindi cosa vuol dire? Che in particolare, questo vale per tutti i giovani, in particolare per i figli dell'immigrazione rispetto a quello che dicevamo di saper usare questo repertorio, questa cassetta degli attrezzi, lo sanno fare molto bene. Quello che succede appunto è che in certi contesti questi attrezzi diventano anche oggetti contundenti e ragionare appunto su quando avvengono, anche come vengono utilizzati come risorse politiche e da qui. Volevo collocare anche questa riflessione all'interno di una prospettiva postcoloniale perché appunto siccome ho cercato di inquadrare questo tema come un ripensamento di quello che sta avvenendo in termini di diseguaglianze globali e italiane è importante a mio parere avere un quadro un po' più di lungo periodo e che sconfini appunto cerchi di superare ancora una volta questa logica del pensiero stato che vincola l'influenza anche noi come ricercatori e capire che appunto per esempio rispetto alle diseguaglianze noi anche i termini che usiamo usiamo paesi ricchi e paesi poveri no? Magari iniziando a parlare di paesi arricchiti, paesi impoveriti ci iniziamo a domandare quando si sono arricchiti, come si sono arricchiti, quando si sono impoveriti, come e anche insomma in prospettiva non solo fissa sul presente ma i paesi arricchiti che si stanno impoverendo come si stanno impoverendo i paesi impoveriti che si stanno arricchendo come cioè avendo questa prospettiva che magari includa il colonialismo e ancora prima lo schiavismo cioè riusciamo ad avere anche una prospettiva critica su quelle dinamiche neocoloniali come insomma il mio collega Guolo non ha detto esplicitamente ma richiamato per esempio i conflitti nel vicino oriente ha parlato di potenze protettrici che si disportano alla partita per l'egemonia dell'aria cioè capire anche oggi questo tipo di prospettiva cosa ci può offrire in chiave critica per leggere il presente con tutte le conseguenze appunto anche sul piano delle migrazioni internazionali e questo implica anche rimettere al centro il razzismo il razzismo della società europea e della società italiana sappiamo che siamo cresciuti e socializzati con il mito di brava gente gli storici insomma da Delbocca, la banca e altri ci hanno cercato di far conoscere anche le atrocità della nostra storia coloniale e abbiamo minimizzato la portata del fascismo anche nella cultura italiana e quello che secondo me è utile fare è riprendere questa riflessione perché ha a che fare con come pensiamo come vengono rappresentate le migrazioni e come vengono appunto inclusi o meno i figli delle migrazioni in Italia e allora riprendendo quello che dicevo rispetto a quell'approccio teorico che viene chiamato del multiculturalismo quotidiano significa anche appunto vi dicevo quando è che queste differenze vengono reificate come adesso faccio un passo ulteriore vengono naturalizzate, vengono rese inutabili e da chi? e questo significa secondo me riuscire a interrogarsi sulle rappresentazioni del noi sulle micro pratiche anche quotidiane, cioè legare la struttura all'interazione cioè come anche il nostro malgrado per il tipo di termini che usiamo per il modo in cui guardiamo anche certe immagini che ci vengono proposte riproduciamo o meno un immaginario razzista e quindi ci collochiamo in maniera funzionale o meno in quel tipo di società stratificate e diseguale di cui parlavamo prima questo secondo me ha a che fare anche con decostruire le rappresentazioni del noi ovviamente come sociologa che tra l'altro ha questo approccio di studi culturali ho un approccio un po' diverso rispetto al mio collega demografo che parlava dell'assimilazione e di per esempio appunto le figlie delle immigrazioni che aspirano a diventare moderne come le loro omologhe italiane doc perché appunto vogliono essere istruite, sposarsi più tardi e diciamo non come avviene per esempio nei paesi d'origine quindi io cercando di costruire questo immaginario dico è come se stessimo rappresentando il noi sul polo modernità gli altri sul polo tradizione e diciamo che avvicinandoci a noi per esempio il traguardo delle pari opportunità sarà più facile peccato appunto che come sociologa non riesco a togliermi dalla mente quello che vi ho detto prima rispetto al modello di welfare familista e poi alle difficoltà che ci sono materiali nel realizzare appunto una volta che mi sono istruita come donna, come ragazza una volta che mi costruisco questa famiglia che opportunità ho? e allora lì si vede che sul piano materiale questo tipo di aspirazione viene tradita anche nel caso delle prime e delle seconde cioè quindi cercare di ragionare sul noi non solo sul tipo di aspirazioni che creiamo nei giovani a cui li socializziamo ma poi se effettivamente gli garantiamo le possibilità di realizzarle e sempre meno questo avviene vi dicevo ancora una volta guardiamo le diseguaglianze sui giovani guardiamole in chiave intersezionale guardiamole anche dalla prospettiva di genere e un altro accenno ci sono 5 minuti meno meno e allora spot farò effetti speciali e poi magari ne riparliamo se avrete voglia qua cito il peso del nazionalismo bianco questa autrice sta parlando dell'Australia uno dice cosa c'entra il nazionalismo bianco in Italia non ci abbiamo suprematisti bianchi non ci abbiamo magari anche qua a livello spot però non pensiamo che questo tipo di immaginario riguardi solo chi viene identificato come razzista di professione come sociologa seguendo Auer Becker penso che sia utile pensare in termini di tipi di attività piuttosto che tipi di persone e anche il razzismo penso che appunto collocarlo solo dire e quelli sono quelli di destra quelli che in qualche modo sono di estrema destra allora c'è il nemico numero uno, la lega invece abbiamo i democratici che invece non hanno questo problema io dico no cerchiamo in quella prospettiva postcoloniale che dicevo vedere come siamo tutti chiamati anche come cittadini e come studiosi a disimparare il razzismo proprio per il tipo di storia che abbiamo avuto e per il tipo anche di dicevo repertorio culturale di cui disponiamo e questo ha a che fare con il tipo di socializzazione che non ha elaborato il colonialismo neanche il fascismo ma come devo finire volevo l'ultimo passaggio che ha a che fare che ha a che fare appunto con quello che ho visto cambiare in questi dieci anni in cui ho intervistato ho fatto focus group e ho usato altri metodi qualitativi per cercare di conoscere e comprendere la prospettiva dei figli e delle figlie dell'immigrazione in Italia quello che ho visto cambiare che non c'era appunto anche dicevo dieci anni fa rispetto a quello che ho ascoltato e ho visto oggi e come anche è stato richiamato da alcuni colleghi il desiderio anche dei giovani italiani autotoni di andare altrove per cercare opportunità che qui non si ritrovano ho iniziato appunto a ascoltare anche tra i figli dell'immigrazione queste storie e qua ci sono delle citazioni di interviste che ho fatto a Padova che tra l'altro l'anno scorso quindi leggete da voi che tipo di rappresentazione c'è dell'Italia in Italia ti preparano bene l'istruzione pubblica ti fa sognare di essere qualcun altro ma poi se sei di ceto sociale basso rischi di restare sempre lì questa è una ragazza che sta facendo infermieristica poi c'è un altro aspetto che volevo sottolineare l'impatto della crisi economica quello che ho visto dal 2008 a oggi sempre rispetto a queste aspirazioni all'emancipazione sociali dei migranti che ho conosciuto anche qua in Veneto qua a Padova e dei loro figli cosa ho visto? ho visto che con la crisi economica è appunto per famiglie presenti anche in questa intervista ce n'è un accenno cioè hanno deciso di re-emigrare in altri paesi d'Europa per esempio a seconda della nazionalità d'origine rispetto al Marocco, in Belgio, in Francia ovviamente la lingua gioca un peso e anche la storia post-colonica rispetto alla Francia però quello che è interessante è vedere come viene vissuto dai figli e dalle figlie in questo caso è veramente come un evento che è una transizione biografica non desiderata è qualcosa che si cerca di evitare ma con la quale alla fine si sa che bisogna fare conti se qua non si cambia e quel cambiamento non riguarda solo i figli dell'immigrazione e l'ultimo veramente poi ho detto perché è stato appunto richiamato il caso francese e volevo anche qua cercando di fare un minimo di riflessione di lunga, insomma almeno di questi ultimi decenni richiamare quello che è successo nel 2005 e quello che è successo pochi giorni fa nel 2015 ovvero le rivolte che ci sono state dei giovani delle periferie e la marcia per l'uguaglianza contro il razzismo che è avvenuta appunto pochi giorni fa perché? perché per dire che questi giovani sono cittadini hanno il documento, sono cittadini legali di fatto come richiamava il nostro collega dal punto di vista politologico non hanno problemi perché cittadinanza, assimilazione, in cambio di diritti quindi dovrebbero in qualche modo ma storicamente con tutti gli studi che sono fatti dai sociologi sappiamo che le diseguaglianze nelle periferie per i giovani autotoni e ancora di più per i giovani figli immigrati sono aumentate in questi ultimi decenni e sono aumentate per i discorsi che dicevamo prima e il problema del razzismo si è esacerbato e quindi c'è questo tipo di mobilitazione che cerca di dare una risposta a questa questione e intanto vi ringrazio per la pazienza e sono disposta a dialogare ancora con voi dopo grazie 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 grazie